Alza la posta Roberto Formigoni e mette sul tavolo delle elezioni anche il suo ruolo di commissario straordinario di Expo 2015. Il presidente Lombardo questa mattina ha incontrato il segretario generale del Bielo, Sertales, a Palazzo Lombardia e ha messo in discussione il proprio incarico in base a quello che sarà il risultato elettorale. Se vincesse uno schieramento diverso dal mio, un minuto dopo rassegnerei le dimissioni. Ovviamente continuerei ad esercitare le funzioni nel periodo intercorrente fino alla decisione che ci sarà del nuovo governo. Se invece vincerà Roberto Maroni, sostenuto da PDL e Lega, Formigoni ha concluso che si sentirà legittimato a rimanere commissario generale dell'Expo milanese. Anzi dice, sarebbe mio dovere. Nessun'altra dichiarazione dopo l'incontro di oggi, né da Giuseppe Sala a Didi Expo, né da Los Sertales, elezioni troppo vicine e bocche cucite. Dura invece la reazione di Umberto Ambrosoli, che chiude la proposta con una battuta. Mi sembra il minimo, ha detto il candidato, perché nel suo mandato non ha fatto niente. Adesso manca solo che Formigoni resti a far nulla, ha proseguito l'avvocato, quando non sarà più neanche presidente della regione. Secondo Ambrosoli, quel ruolo di commissario generale, che non ha sfruttato, dovrà essere gestito in maniera diversa, dialogando con le realtà territoriali e organizzando iniziative coerenti con i temi che si svilupperanno durante Expo.